Ben svegliati, ci ha voluta la coraggiosa presa di posizione di Serena Bortone, conduttrice della trasmissione che sarà su Rai 3, per avere l'ennesima conferma che questo governo sia fascista per tradizione, nei modi e nell'individuazione dei nemici. La censura nei confronti di Antonio Scurati ha la stessa cifra del boicottaggio nei confronti di Roberto Saviano, del trattamento riservato da uomini di lettere come Marino Sinibaldi e Nicola La Gioia. In quella stessa trasmissione è stata censurata, con molto meno rumore, purtroppo per noi, anche la scrittrice Nadia Terranova. Lo stesso violento attacco personale l'ha subito la scrittrice Valentina Mira. È la stessa violazione di libertà, di espressione che sta nelle decine di querele, di esponenti della maggioranza di governo, nei confronti di quotidiani. Come domani, personalmente, alla notizia, ho ricevuto negli ultimi 12 mesi più della somma delle querele governative ricevute in 30 anni di scrittura. È la stessa bile nera che ha bollito Michela Murgia fino ai suoi ultimi giorni di vita. È lo stesso spirito nero che nel 2023 ha prodotto una circolare rivolta ai centri di cultura italiana nel mondo in cui comparivano i nomi degli intellettuali da non invitare. La radice è sempre la stessa. Non è stata la RAI a censurare Scurati. Crederlo è da ingenui. La RAI è solo una dei tanti esecutori di un mandante politico che vigliacchi e stolti insistono nel dipingere come destra liberale. I leghisti tra di loro chiamano i meloniani fascisti. Qui fuori ancora si scrive del presidente, chiamandolo al maschile, di un governo di centrodestra. Forse è giunto il tempo di svegliarsi, anche per i comodi, quelli convinti che tanto non toccherà mai a loro.